Eccolo! Eccoci qua ragazzi. Come state? Tutto bene? Oggi sorrisoni, oggi cerchiamo di raccontare soltanto cose positive. Intanto ovviamente la notizia più importante per me in assoluto è che domani sono a Torino, quindi se siete di Torino sarò a Torino sia giovedì che venerdì per la partita, il tirangolare organizzato da Adidas e quindi ci vediamo lì. Non ci sarà l'apertura al pubblico purtroppo però l'idea di giocare all'Alliance Stadium mi galvanizza. Di questo vi ho già parlato in una breve clip che vi ho postato ieri, però la notizia forse che mi dà più carica in assoluto è che tra mezz'ora c'ho il barbiere quindi questa è assolutamente una buona notizia perché questi capelli ormai si ribellano al loro possessore, hanno preso pieno controllo di me, non ho più idea di come pettinarli quindi per fortuna diamo una bella tagliata, di solito la mità iniziano a cadere, a me invece sono così quindi non posso assolutamente lamentarmi. Allora ragazzi, ieri sera, anzi parto dall'unica notizia un pelino potrebbe essere brutta, anche oggi su Gazzetta c'è questa possibilità, si pare questa possibilità di un'esclusione UEFA della Juventus, ho già affrontato l'argomento, ne ho già parlato, nel canale trovate non più di 5-6 video fa proprio un contenuto inerente a questa cosa qui quindi l'unico motivo per non parlare del calcio, quindi per parlare dell'extracalcio può essere legato a questa roba qua monitoriamo la situazione, ci saranno un paio di settimane secondo me ancora di attesa per questa cosa vediamo, la Juventus in questo weekend domenica può accedere addirittura all'Europa League bisogna che si incastrino alcune cose sul campo, se no sarà Conference League perché lì si è qualificata la Juve, non ci saranno più punti di penalizzazione e se verrà esclusa dalle competizioni UEFA sarà per un ragionamento alla base di UEFA stessa quindi non per quanto riguarda invece tutta la prassi e gli iter legati ai processi in Italia quindi vediamo questa roba qua e pur si muove, e pur si muove invece il discorso inerente a Massimiliano Allegri, all'allenatore della Juventus ieri sera addirittura vedevo su Twitter che Mirko Nicolino aveva riportato Allegri 0% di possibilità io rispetto il lavoro e le fonti di Mirko, però per me personalmente, che non significa che debba essere universale è la mia legge non scritta che mi sono dato in tanti anni che cerco di captare informazioni il 100% e quindi lo 0% di conseguenza complementare sono legate soltanto ad ufficialità della squadra o dell'allenatore stesso quindi l'annuncio della squadra, l'annuncio dell'allenatore o del giocatore, di quello che volete vado lì, non vado lì, vado via, non vado via quindi se Mirko ha avuto questa soffiata, immagino che possa essere stata una sorta di esclusiva che ha avuto ecco, io credendo a quello che può aver raccordato Mirko, delle due vado sul 99% che è comunque una cifra molto elevata, una statistica molto elevata e io tra l'altro mi aspetto che succederà esattamente quella roba lì per diversi motivi, cerchiamo di metterli in ordine intanto questo weekend si conclude la Serie A e voi direte e beh, no, è importante, è molto importante iniziano a incasellarsi tutte le cose, processi sportivi terminati adesso la Serie A perché? Perché la Juventus ha messo gli occhi su un direttore sportivo che è Cristiano Giuntoli ora, voi provate a immaginarvi la festa a scudetto del Napoli al Maradona, con tutti chi alza la Coppa belli e contenti con Giuntoli che deve alzare la Coppa in mezzo allo spettacolo che avrà allestito e i tifosi sanno che lui va alla Juve perché l'ha detto lui, non proprio per il discorso che dicevamo prima sì, magari al 99% Giuntoli andrà alla Juve però non c'è stato l'annuncio del diretto interessante o nell'annuncio della Juventus provate a immaginarvi come potrebbe poi vivere Giuntoli quel momento lì che si merita per quello che ha costruito per il lavoro che ha effettuato quindi una volta terminato questo campionato Giuntoli sarà libero poi di fare le proprie scelte dato che c'è già stata l'ufficialità della separazione a Spalletti l'ufficialità della separazione pure del direttore sportivo e il Napoli volterà a pagina e cercherà di aprire un altro ciclo quindi un incastro secondo incastro la proprietà perché prendo le parole del mio amicone Romeo Agresti dice ragazzi dopo Empoli qualcosa si è mosso qualcosa si è mosso perché la proprietà non è stata contenta di alcune uscite del tecnico e quindi chi può decidere per l'esonero di Allegri? John Elkan perché? perché rappresenta la proprietà perché l'esonero di Allegri sempre secondo Romeo sono 42 milioni di aurlordi che la Juventus dovrebbe sborsare per allontanare dalla panchina Allegri e il suo staff che hanno altri due anni di contratto quindi sembra che si stia lavorando proprio su questa cifra legata a una buona uscita anche se Allegri avrebbe tutto il diritto del mondo ripuntare i piedi e dire no ho altri due anni di contratto non voglio firmare una recessione non voglio una buona uscita se mi esonerate sto a casa e mi prendo quei soldi perché gli spettano dato che nessuno ha puntato una pistola alla tempia della vecchia dirigenza della Juventus quando è stato sottoposto a questo contratto quadriennale 4 anni sono molto molto lunghi per un progetto sportivo per un allenatore solitamente non vediamo dei contratti così lunghi ad Allegri è stato fatto firmare questo contratto ed ora lui ovviamente carta canta ha dalla sua questa potenza contrattuale e se vorrà potrà dire semplicemente no poi se la Juventus invece vorrà esonerarlo allora questi 40 milioni verranno sborsati dalla Juve per separarsi da Massimiliano Allegri anche contro la sua volontà una cosa che mi fa piacere una che mi fa meno piacere perché in queste ore quella che mi fa piacere è la Juventus starebbe valutando appunto il lavoro di Massimiliano Allegri tra l'altro questa roba mi fa molto ridere cioè io mi immagino proprio che entri all'interno di questa stanza ci sono tutti quelli che sono i dirigenti della Juventus e dicono va bene analizziamo il lavoro di Massimiliano Allegri cosa abbiamo vinto? zero che analisi che deve venire fuori ci mettono 12 minuti col caffè in mezzo non c'è niente di cui discutere per analizzare però mi fa molto ridere questa roba qui perché me la immagino in questo modo una riunione che dura veramente una decina di minuti con in mezzo il caffè la cosa che mi fa meno piacere è pensare che la proprietà in questo momento possa avere dei dubbi basati sulle dichiarazioni che ha effettuato Massimiliano Allegri non sul lavoro di Massimiliano Allegri di questi due anni traduco se ora Romeo arriva a dire il vento è cambiato le posizioni sono cambiate ora Allegri rischia davvero perché le dichiarazioni di Empoli hanno dato fastidio è ben diverso da dire perché il lavoro di Allegri non è stato ritenuto soddisfacente nell'arco di questi due anni cioè intendiamoci sportivamente tu dovresti valutare il lavoro dell'allenatore dal punto di vista sportivo sportivamente invece qua viene valutato dal punto di vista comunicativo cioè traduco probabilmente Adelkan sarebbe andato bene ad andare avanti con Allegri al di là del direttore sportivo che ancora non ha firmato il discorso che facevamo prima quindi questa decisione di separazione di Allegri è una separazione per contrasti dal punto di vista ideologico dal punto di vista personale anche questo malumore nello spogliatoio di cui si murmura va ancora in quella direzione anche se poi lo spogliatoio magari questo malumore nasce da ragioni tecniche perché la squadra ovviamente parla di campo però sinceramente sentire che il motivo per cui si vuole allontanare l'allenatore e cambiare l'allenatore è per delle dichiarazioni che tra l'altro sono comprensibili attenzione come a me possono aver dato fastidio da tifoso ma io mi immagino la proprietà che in questi anni ha messo 700 milioni di euro dentro del cast per aumento di capitale per ricapitalizzare le perdite il rosso e tutta la battaglia che c'è stata in questi mesi e poi senti l'allenatore dopo che è stato fatto un mercato su misura per Allegri insieme ad Allegri in cui sono state dettate delle linee guide richiesta di Allegri Pogba Di Maria Via dell'Italora dentro Bremer cioè ci sono stati fatti degli acquisti lo stesso Paredes Milik Kostic che andava nella direzione delle richieste dall'allenatore poi arriva bello come il sole e così non si può vincere e forse anche l'anno prossimo non si può vincere e poi si ha la Juventus e viene da sé pensare che se dà fastidio al tifoso dà fastidio pure a chi ci mette i soldi a chi ha la proprietà della Juventus perché questi semplicemente non sono discorsi a Juventus e l'abbiamo detto ridetto ribadito e ribadito quindi non è un discorso tecnico-tattico è un discorso motivazionale infatti mi fa anche un po' ridere che a volte nei commenti mi ritrovo della gente che mi dice sì però esageri non sono le parole che vanno analizzate cioè chi se ne frega di quello che dicono ragazzi rendiamoci conto chi se ne frega di quello che dicono l'allenatore della Juventus un tesserato della Juventus non può permettersi di fare queste uscite qui cioè non può permettersi di farle e ripeto non ve lo sto dicendo io io ve l'ho sempre detto e rimane la mia opinione ma se arriva questa cosa a dare fastidio dentro la società dentro la Juventus capite bene che queste cose un peso ce l'hanno è come se ce l'hanno ed è giusto che ce l'abbia ieri Monblano ha sparato la bomba dato che per Mirko stavamo dicendo prima c'è lo 0% di possibilità per Romeo è cambiato tutto dopo Empoli per le dichiarazioni e quindi John Elkan starebbe pensando al cambio in panchina ieri Monblano ha detto addirittura che secondo lui sempre meno allegri siamo addirittura circa intorno al 4% cioè capite che tutti gli organi di informazione in questo momento stanno chiacchierando sull'uscita di Allegri quindi significa che qualcosa ci sarà perché le fonti che magari sono interne o dirette parlano di questa roba qui metti che qualche giornalista al contatto diretto addirittura con dei giocatori con dei giocatori o i dirigenti stessi si chiacchiera di questa roba qui bene il discorso centrale del progetto sportivo è l'allenatore ed è giusto che se ne parli a 90 minuti dal termine del campionato tra l'altro sempre ricordando che la prima partita Allegri Bis è stata Udinese-Juve e domenica si gioca Udinese-Juve cerchio perfetto che si chiude io a queste cose ogni tanto ci faccio attenzione e il Raymond Blano parlava di Vincenzo Italiano che è uno dei miei nomi preferiti lo sapete bene ve ne avevo parlato nel video insieme a Lello quando si parla di preferenze avevo messo al primo posto De Zeb al secondo posto italiano li reputavo entrambi difficili per motivazioni differenti se davvero sarà Vincenzo Italiano vedremo perché comunque è un contratto in essere con la Fiorentina bisogna lavorare su queste robe qua però sentivo che non dovrebbero esserci problemi nel caso vediamo perché è ancora un discorso molto embrionale beh sarei molto molto contento di questa roba qua vi ho portato anche una piccola clip ieri sera in cui vi parlavo di Vincenzo Italiano che veniva direttamente da Tutti in the Box la trasmissione Twitch che abbiamo fatto l'altra sera insieme a Davom a Edo a Ematoshi e quindi andatevi a recuperare quello short di 40 secondi in cui vi elencavo tutti i risultati raggiunti da Italiano in questi mesi c'è qualcuno che continua a dirmi sì però bisognerebbe prendere Conte bisognerebbe prendere Zidane bisognerebbe prendere Luis Enrique bisognerebbe prendere Nagelsmann ragazzi sono nomi ingombranti io mi aspetto dei nomi un po' diversi per la Juve per diverse motivazioni la prima quella economica parlavamo prima cioè se la Juve esoner a Ligri escano 40 milioni di euro circa 40 milioni di euro circa per l'esonero l'evento se non va in Champions League ne abbiamo parlato ieri è vero che col patteggiamento escano solo 700 mila euro io mi immaginavo dei milioni di euro di multa in caso di patteggiamento con multa e però Champions League non la fai e perdi 60 70 milioni di euro di qualificazioni 80 milioni di euro 100 quindi chi sono c'è un danno economico grande se aggiungiamo i 40 milioni che devi sborsare e se aggiungiamo che è un danno di immagine un danno economico un danno di programmazione sportiva perché alcuni calciatori chiederanno la cessione per andare a giocare la Champions alcuni giocatori che potevi prendere non prenderanno in considerazione la Juve perché non gioca la Champions e a maggior ragione uno stipendio oltre ai 40 dell'esonero lo devi riconoscere anche al nuovo allenatore e un conto è i 2 milioni 2 milioni e mezzo potrebbero prendere Tudor Italiano e questi allenatori Tiago Motta che sono sulla nuova wave sono giovani e non hanno mai allenato una grande squadra in occasione del genere e te la pigliano al volo perché è la loro grande occasione della vita un conto è andare da Conte da Zidane da Nagelsmann da Luis Enrique e dirgli senti noi l'anno prossimo giochi alla Conference o forse neanche quella perché ci danno un anno di stop se non due anni di stop quindi magari in Champions non ci giochiamo neanche l'anno prossimo anche se ci qualifichiamo questi giocatori dobbiamo venderli per far fronte al buco di bilancio che abbiamo avuto per non esserci qualificati alla Champions per l'uscita dal vecchio allenatore però ti vogliamo non abbiamo chissà quale disponibilità sul mercato infatti stiamo rinnovando Quadrado e ti diamo 4 milioni di euro l'anno accetti? secondo voi come finisce questa conversazione con allenatori che hanno vinto Champions League hanno allenato nelle top squadre del mondo Premier League questi ti dicono grazie ma no lo stesso Antonio Conte oggi non è più il conte di 11 anni fa che arriva la Juve dalla Serie B oggi è un allenatore che ha un nome è un allenatore che ha delle richieste è un allenatore che si è fatto un palmarès ecco guardate il curriculum cioè secondo me l'identikit dell'allenatore ideale nella testa della Juventus oggi è al curriculum ha vinto ha allenato grandi squadre e quindi ha delle richieste un ingaggio no grazie è un allenatore emergente ha delle idee può valorizzare può riportare entusiasmo nella tifoseria può ricreare quel rapporto che è venuto a mancare tra noi e i tifosi non ha mai allenato una grande squadra quindi vuole l'occasione sì questo secondo me è il ragionamento che c'era a fare però soltanto il tempo ci dirà se questa cosa sarà confermata oppure no ragazzi grosso abbraccio e noi ci vediamo nel pomeriggio dove proverò a portarvi un altro video magari con dei capelli un po' più corti un po' più intelligenti grazie